entra nel vivo fuori dal comune il progetto per gli under 30 di siena grosseto e arezzo un progetto fatto dai giovani per i giovani che diventano protagonisti della riqualificazione urbana osservatorio della legalità mazzeo saremo sentinelle della lotta contro la criminalità insediato l'organismo che sarà presieduto da don andrea bigalli nominati anche jacopo melio valentina mercanti luciana bartolini e ancora salvatore calleri gabriele berni ilaria santi gli ubaghi dotti e sarà d'ambrosio entra nel vivo fuori dal comune progetto creato dai giovani per i giovani al fine di dare vita a esperienze aggregative l'iniziativa presentata in consiglio regionale prevede una full immersion di tre giorni di laboratori gratuiti rivolti a giovani under 30 che si terranno a siena arezzo e grosseto oltre 150 i ragazzi che hanno aderito e avranno così l'occasione di sviluppare le proprie competenze nel campo cinematografico o di realizzare un progetto musicale il progetto è finanziato dal consiglio regionale nell'ambito degli interventi per l'aggregazione giovanile fuori dal comune è realizzato da oxfam italia e dalle associazioni giovanile aretine farrago e arezzo che spacca il vicepresidente del consiglio regionale stefano scaramelli parla di questa sua idea accolta positivamente dall'ufficio di presidenza un progetto per i giovani ideato da giovani frutto di un intuizione una legge che portavo con me da tanto in testa e poi il consiglio regionale l'ha fatta proprio l'ufficio di presidenza dove i ragazzi diventano protagonisti di se stessi delle proprie aree urbane dove c'è una rigenerazione urbana non frutto di investimenti di opere pubbliche ma frutto dell'intuizione che i ragazzi dovranno mettere in campo un'intuizione che poi si è trasformata in un'opportunità di relazione l'idea nasce sotto il periodo di covid quando i ragazzi non avevano più relazioni tra di loro doveva essere un'opportunità per consentire ai giovani di entrare in relazione di riappropriarsi degli spazi urbani di renderli vivi e di dimostrare che in ogni area urbana ci può essere uno spazio magari oggi abbandonato che però torna a vivere grazie all'intuizione la partecipazione all'estero a quello che i ragazzi dimostreranno di fare lo andranno a fare in tre grandi città della Toscana sia in Arezzo e Grosseto quindi una Toscana del Sud cosiddetta che torna protagonista con tantissimi giovani che partecipano sono tantissimi ragazzi che hanno risposto e saranno tre fine settimana importanti dove i ragazzi dimostreranno di andare a fare delle produzioni ed essere protagonisti ma soprattutto a conoscersi e questo grazie a una grande collaborazione che è partita con Oxfam e varie associazioni soprattutto a Retini che poi hanno dimostrato di essere in grado di fare sistema con il territorio quindi un'intuizione unica nel suo genere che mi auguro possa poi essere replicata a livello nazionale e se questo progetto riuscirà a produrre quell'innovazione che io credo renderà i giovani finalmente protagonisti di un progetto pensato per i giovani e fatto da giovani stessi Investire sui giovani è una delle priorità come conferma Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale È una di quelle scelte che abbiamo portato avanti con forza in questa legislatura le risorse a disposizione non tantissime come Consiglio regionale abbiamo avuto come risparmi dei costi della politica e l'abbiamo voluto dedicare ai giovani questo progetto si inserisce esattamente all'interno di questo percorso ringrazio il vicepresidente Scaramelli per averlo voluto fortemente ringrazio Oxfam Italia per aver organizzato, partecipato, indirizzato un'iniziativa che si pone un obiettivo che è quello poi di cambiare paradigma noi di solito pensiamo che con le politiche giovanili si possa risolvere il disagio sociale invece con questa iniziativa si prova a cambiare il paradigma porre i ragazzi al centro, a costruire insieme, insieme a loro, non solo il futuro ma anche il presente è a noi il compito, avendo coinvolto tante amministrazioni comunali di fare in modo che questo non sia un evento spot ma che possa continuare nel corso degli anni e possa davvero contribuire a costruire un futuro migliore per i ragazzi e le ragazze che vivono nel nostro territorio I laboratori propongono un modello che ha sottolineato Tommaso Caperdoni presidente dell'associazione giovanile di Farrago negli anni si è sviluppato ad Arezzo e in cui sono i giovani che pensano e realizzano i progetti per loro Abbiamo strutturato tre full immersion della durata ciascuna di tre giorni sulle città di Arezzo, Siena e Grosseto dove proviamo a esportare un modello che negli anni si è sviluppato ad Arezzo dove sono i giovani effettivamente che progettano i progetti per i giovani in questo modo il coinvolgimento è garantito tanto che abbiamo coinvolto 150 giovani su tutte queste tre città le full immersion si svilupperanno in tre giorni di formazione e di azione creativa di un videoclip musicale che verrà girato durante la terza giornata quindi sarà un set cinematografico dove si possono sviluppare sia soft skill ma anche hard skill nell'ambito della comunicazione e della cinematografia ci saranno tutti i reparti della truppa che verranno formati su ragazzi che vanno da esperienza zero a esperienza professionale quindi si creerà anche un tessuto, lo lasceremo a livello locale questo tessuto professionalizzante e di comunità educante speriamo di lanciare un seme che poi crescerà per far sviluppare tutta una serie di attività anche imprenditoriali a livello giovanile ad Arezzo c'è questa cosa bellissima che è l'associazionismo è un po' come una specie di avviamento all'imprenditorialità giovanile Farrago, Arezzo che spacca ne sono due esempi siamo ragazzi che lavorano nell'ambito del cinema e della musica e si sono riuniti intorno alla forma dell'associazionismo Del modello aretino ha parlato anche l'assessore alle politiche giovanili del comune di Arezzo, Federico Capecchi Sì, fa molto piacere che il modello Arezzo tra virgolette viene esportato anche nelle altre province della Toscana del Sud perché per l'amministrazione comunale di Arezzo e per le associazioni del territorio è normale interagire e coprogettare siamo riduci da progetti di grosso successo come Oltre Camera che ha portato alla creazione di una serie tv a retina fatta da giovani per i giovani e anche da altri progetti partecipati e questo è bello perché va anche oltre il campanilismo che abbiamo in Toscana quindi Arezzo si è negrossetto insieme in un progetto innovativo e per questo ringrazio oltre all'associazione Farrago e Oxfam anche il consiglio regionale della Toscana che ha voluto portare avanti questo progetto e mi auguro che sia il primo di una lunga serie di eventi che vedono i giovani aretini e direi toscani protagonisti del nostro futuro Al centro del progetto un cambio di paradigma che ha spiegato Silvia Ciarpaglini consulente welfare giovanile Oxfam sentiamo le sue parole e quelle di Enrico Giustini un giovane che ha già fatto questo tipo di esperienza Ci teniamo anche proprio a questa espressione perché è il lavoro che ha tentato di fare negli ultimi 5 anni Oxfam parlando di protagonismo giovanile e pensando che il protagonismo giovanile è quando i ragazzi attivamente fanno qualcosa per se stessi e per gli altri ragazzi troppo spesso diamo atto a dinamiche verticali o comunque frontali un po' paternalistiche nel senso che pensiamo sempre che dobbiamo essere noi adulti sono un'adulta a dover dare qualcosa ai ragazzi invece abbiamo capito con un lavoro durato anni che i progetti per i giovani devono essere gestiti da loro stessi e in questo caso si parla anche di rigenerazione urbana perché abbiamo compreso che questo poteva avvenire anche facendo in modo che avessero degli spazi per loro spazi che potessero essere gestiti da loro o comunque come vedrete poi in questo progetto visti per la prima volta da loro perché la truppa e il set diventano praticamente degli strumenti per creare aggregazione e un punto di vista nuovo su uno spazio da riqualificare io sono entrato nel gruppo della Farrago da circa un annetto ed è stata un'esperienza che in un certo senso mi ha un po' stravolto la vita perché io avevo appena lasciato la magistrale tra l'altro una magistrale in biologia quindi tutt'altro campo e ho detto ok provo a ripartire ho trovato questa esperienza tramite così amici, articoli, post ho detto proviamo e è stata formativa non soltanto dal punto di vista appunto di pratico di hard skill ma proprio perché mi ha reso protagonista e ha rimesso in moto in me un cambiamento che è stato fondamentale proseguendo appunto sia con la Farrago sia con questo progetto diventando appunto produttore e comunque sia formatore per questa per altri ragazzi sperando che comunque la mia esperienza serva da diciamo esempio Si parte dunque a Siena dal 25 al 27 novembre a Grosseto dal 2 al 4 dicembre e ad Arezzo dal 9 all'11 dicembre al termine dei laboratori nelle tre città è previsto un evento finale di performance live con tutti i partecipanti che si terrà il 10 dicembre ad Arezzo in Toscana sarà operativo l'osservatorio regionale sulla legalità l'insediamento si è svolto lo scorso 16 novembre a presiederlo Don Andrea Bigalli nominato in rappresentanza della Conferenza Episcopale Toscana l'osservatorio nasce con l'obiettivo di raccogliere informazioni sul progredire dell'eventuale presenza anche sotto forma di infiltrazioni delle organizzazioni malavitose sul territorio toscano e avanzare proposte per contrastare ogni forma di criminalità organizzata Si insedia oggi la commissione di orientamento dell'osservatorio regionale sulla legalità quindi ricordo che siamo di fronte a un'istituzione una emanazione diretta del Consiglio regionale la quale però si dota di una commissione di orientamento è importante creare questi ambiti in cui interagisce la società civile attraverso la dimensione associativa, degli enti amministrativi delle realtà anche di volta in volta saranno convocate in modo che l'osservatorio stesso si orienti con le varie attività di ricerca esplorazione del territorio, comprensione dei meccanismi dell'infiltrazione dimensione del contrasto in quanto tale con tutte le realtà appunto che in altri ambiti sociali lavorano su questa tematica quindi è quanto mai importante che questa commissione faccia un lavoro il più aperto possibile il più attento possibile a tutte le voci molteplici che arrivano sul territorio al riguardo Soddisfazione anche da parte di Luciana Bartolini consigliere regionale della Lega e di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale Finalmente si insedia questo osservatorio sono contenta di farne parte perché la legalità è il punto più importante per tutti noi, dentro o fuori dal palazzo questo osservatorio vedremo se potrà avere delle cose concrete da proporre penso di sì, visto tutte le persone che ne fanno parte e quindi cercheremo tutti di contribuire in modo che la Toscana riesca veramente a combattere tutte queste mafie quindi bisogna cercare tutti nei vari territori appunto come diceva Don Galli di stare a sentire i territori proprio per capire, aiutare ovviamente le forze dell'ordine quindi tutte le voci sono importanti Sono davvero felice oggi che parta il lavoro dell'osservatorio regionale per la legalità l'ho voluto fortemente, lo abbiamo voluto fortemente per dire che la Toscana è e resterà dalla parte giusta della storia quella della legalità che combatterà con tutte le proprie forze le infiltrazioni criminali che purtroppo anche nella nostra regione ci sono in forma differenti rispetto ad altre regioni d'Italia un grazie a tutti coloro i quali faranno parte dell'osservatorio in particolare a Don Andrea Bigalli che lo presiederà saremo sentinelle anche noi della lotta alla legalità faremo la nostra parte insieme a tutte quelle associazioni a tutti coloro i quali con impegno e dedizione lo fanno ormai da tanto tempo Dal 19 novembre all'8 gennaio Arezzo si vestirà a festa per diventare città del Natale e accogliere famiglie e turisti che da tutta Italia potranno vivere le tante attrazioni che scandiranno l'attesa del 25 dicembre e condurranno all'inizio del nuovo anno dallo spettacolare percorso di installazioni luminose che offrirà una lettura insolita di architetture e palazzi storici al Parco delle Meraviglie col planetario e l'attesissima ruota panoramica dai mercatini del villaggio tirolese alla Brickhouse Art dai presepi alla Fortezza delle Meraviglie dove sarà allestito un vero e proprio villaggio degli Elfi e tanto altro una kermesse che giunge alla sua settima edizione e che è stata presentata nel Palazzo del Pegaso su proposta della vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci Sono molto felice di essere qui anche quest'anno a partecipare alla presentazione in Consiglio regionale da me promossa di Arezzo, città del Natale un'esperienza riuscita nell'arco del tempo che si sta consolidando che cambia anche faccia rispetto ai vari momenti che viviamo nella nostra società c'è il contributo dell'amministrazione comunale della fondazione di Ascom è fondamentale fare squadra per far sì che eventi come la città del Natale possano avere lo stesso successo che hanno sempre avuto sono fiducioso che anche quest'anno Arezzo saprà essere davvero la città del Natale Anno dopo anno questa manifestazione che si svolge in un museo a cielo aperto qual è il centro storico di Arezzo continua a crescere attraendo visitatori da ogni parte d'Italia lo ha detto Alessio Alterini consigliere delegato della fondazione Arezzo in Tour Siamo alla settima edizione quindi oramai di un'iniziativa Arezzo città del Natale che non è solo un'iniziativa conosciuta oramai ma anche un'iniziativa riconosciuta a tutti gli effetti quindi Arezzo si veste a festa di nuovo nel periodo appunto natalizio e siamo pronti ad accogliere i tanti turisti che anche quest'anno si recheranno ad Arezzo per la città del Natale ringrazio la fondazione Arezzo in Tour con i suoi dipendenti, il suo consiglio d'amministrazione che già da diversi mesi è a progettare e a prospettare questo tipo di iniziativa che come dicevo prima comincia ad essere un'iniziativa nell'ambito delle iniziative nazionali un'iniziativa che ha acquisito un suo livello e una sua storia quindi noi saremo ben lieti di presentare la nostra città tutto questo si svolge in un museo a cielo aperto che è la città di Arezzo quindi anche quest'anno Arezzo sarà protagonista e ci saremo Orgogliosa anche l'assessora comunale all'innovazione tecnologica e semplificazione burocratica del comune di Arezzo Monica Manneschi Riproduciamo una manifestazione spettacolare che coinvolgerà tantissimi turisti basta pensare che insomma già fin dalle prime settimane abbiamo le nostre strutture ricettive già sold out questo comunque ci fa molto piacere perché dà una conferma di quella che è l'importanza che ha la città di Arezzo con la città del Natale in Italia ma non solo quest'anno in modo particolare però l'amministrazione ha voluto porre un'attenzione a quella che è la crisi energetica che sta attraversando il nostro paese quindi ha raggiunto un compromesso per quanto riguarda l'aspetto ecolarità e quindi la bellezza e l'unicità e la novità di queste nostre attrattive con un compromesso di una manifestazione più energivora e quindi più ecologica e questo darà modo di risparmiare in ambito di risparmio energetico perché spingeremo le attrattive un'ora prima rispetto allo scorso anno faremo meno del videomopping che ha illuminato e raccontava la storia di Arezzo e che si rispecchiava nel palazzo comunale ma tutto questo non toglierà poi la bellezza e la straordinaria atmosfera che si verrà a creare proprio in queste settimane L'edizione 2022-2023 porta in scena tante novità ogni anno si aggiunge qualcosa ha affermato Liala Basagni membro del team eventi Confcommercio Firenze Arezzo Noi come Confcommercio grazie alla nostra intuizione nel 2015 siamo riusciti negli anni grazie al supporto del Comune di Arezzo e alla Fondazione Intour di poter far crescere questa manifestazione villaggio tirolese di nuovo in Piazza Grande che accoglierà tutti i visitatori del centro Italia dove troveranno collocazione le 36 baite in legno riproponendo i prodotti gastronomici del Tirolo della Germania e dell'Austria ci saranno di nuovo le proiezioni sui palazzi storici di Piazza Grande il Big Light Show che ogni giorno dalle ore 17 alle ore 21 animeranno i palazzi con colori e luci grande novità all'interno della Galleria di Arte Contemporanea in Piazza San Francesco trova a nuova collocazione la Casa delle Lego Brick House Heart su tre piani due milioni di mattoncini di Lego saranno riproposti in opere d'arte come dei quadri della Gioconda o delle rappresentazioni del Campanile di Giotto la Fontana di Trevi artisti di tutta Italia verranno per esporre le loro collezioni Casa di Babbo Natale di nuovo all'interno del Palazzo di Fraternita troverà di nuovo la sua collocazione per accogliere famiglie e bambini all'interno quest'anno abbiamo molte animazioni e laboratori per i bambini ma anche la possibilità in accordo con la biblioteca di Arezzo di poter far donare ai bambini che parteciperanno un libro e riceveranno un libro da poter leggere questo per stimolare anche la lettura Grazie a tutti 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 Grazie a tutti